Riguardo il discorso cartaceo, allora, dipende, perché c'è anche da considerare, vabbè, io lì sono cattivissimo nei confronti del libro cartaceo, nel senso che, vabbè, io non leggo il cartaceo ormai da... Pensa che io sono un amante invece di libri cartacei. Ah, ok, vabbè, ma allora, sicuramente i termini di esperienza avevano i suoi pregi, c'è solo il fatto di scambiarseli i libri, era già una grandissima cosa, per carità, eh, adesso non esageriamo con la modernità, sicuramente. Però attenzione, se noi parliamo di ragazzi, eh, bisogna curare tantissimo, non tanto la lettura su di un libro cartaceo in sé, perché è cartaceo? Perché? Perché i nostri ragazzi vedono un libro cartaceo come una roba per vecchio, una roba statica, una roba... Immaginiamo, questo anche per... si conosce anche con il discorso delle lezioni a scuola. I nostri ragazzi vivono in costanti montagne russe, un luna park della vita, tutti per testo, multimediale, luci, colori, suoni, eccetera, eccetera. Poi dopo gli imponiamo di stare una o due ore su una cosa fredda, senza figure e via di questo passo. Non dico che debba essere necessariamente un male, ovviamente, ha delle valenze educative anche, ci mancherebbe. Però attenzione, noi dobbiamo associare l'esperienza, quindi il libro è cartaceo perché ce lo leggiamo insieme. Io genitore e tuo figlio, allora questo ha un senso. Oppure ad esempio vengono in mente quei libri per bambini, qui scendiamo un po' molto, anzi di età, che sono strutturati in modo tale da offrire un'esperienza che il digitale almeno a momento non può avere. Tipo quei libri in cui apri le pagine e si presenta la scena interdimensionale, queste robe qui. Quindi, esatto, quelli lì ad esempio curano molto l'esperienza della consultazione. Anche se la tecnologia sta raggiungendo anche quel formato lì con la realtà virtuale. Con la realtà virtuale, la realtà aumentata, poi ormai ci siamo quasi. È vero, è vero. Allora, intanto, vai Ivan, scusami. Sì, sì, no, dicevo, quindi fare molta attenzione a quello. Perché in realtà alla fine un libro, se è per l'esperienza anche di leggere insieme un libro, perché non farlo anche da Kindle? Certo. Ok. Quindi per un adulto l'esperienza anche del Kindle può andare bene. Come può essere anche utile per i giovani per rendere l'esperienza più attrattiva e da lì poi, insomma, fare anche l'esperienza della lettura che altrimenti magari verrebbe, no, un pochino messa da parte e rigettata. Sì, anche, esatto. Sì, sì, esatto. Dobbiamo sempre porci come domanda qual è il primo obiettivo che vogliamo raggiungere con questa attività? Certo. Per i ragazzi sempre farsi questa domanda. Allora, l'obiettivo non può essere obbligarlo a fargli leggere qualcosa sulla carta perché il digitale è il diavolo. Capisci che c'è qualcosa che non va nel ragionamento. Però l'obiettivo può essere facciamo qualcosa insieme. Certo. In questo modo. L'obiettivo può essere, ad esempio, che ti insegno l'ordine alfabetico ma non per l'ordine alfabetico in sé, parliamo della consultazione di un dizionario ma perché ti impone uno sviluppo cognitivo di un certo tipo, eccetera, eccetera. Allora, ci può stare in alcuni casi, tipo a volte mi capita quando sono in biblioteca con dei ragazzi, loro sanno che io sono ipertecnologico allora c'è da cercare un termine per dei compiti. Dicono, ah, prendi il cellulare, IVA, così cerchiamo. No, 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 siamo in biblioteca, allora c'è il dizionario, vai e lo cerchi. Che palla. Ah, ok, ok. Non è perché io sia cattivo, ovviamente, ci mancherebbe, ma perché io so che a livello mentale il fatto di dover ordinare le lettere secondo un certo ordine, poi lo sfogliare, sviluppa nel bambino determinate cose, eccetera, eccetera. Certo, perché il tuo obiettivo è quello, cioè aiutare a sviluppare quella competenza lì. Sì, esatto, altrimenti che problema c'è? Vado su Google e cerco, capito. Certo.